Abbiamo quasi sempre parlato di costi bassi nelle nostre top, ma è giunto il momento di cambiare rotta e puntare in alto e di andare a vedere le 10 carte, a costo 10, più forti di Magic the Gathering. Eschiere tutti i demoxi ben ritrovati qui con noi su HMC Magic Masters. 10 è indubbiamente un valore molto alto e ognuna di queste carte può portarci alla vittoria o comunque avere un impatto importantissimo sulla partita. Considerate quindi questo video più che altro un elenco di carte forti a costo 10 più che una vera e propria top. Tenete sempre a mente che Magic è un gioco molto situazionale, arriviamo ad almeno 80 like per una prossima top e partiamo! Numero 10 Influenza delle stelle Letteralmente c'è scritto ricominciamo la partita ma con 7 punti vita e senza eventuali carte esiliate. Nel mazzo giusto la risoluzione di questa pesantissima carta può portare alla vittoria per sfinimento e noia da parte degli avversari. Ad esempio potremmo giocarla in un mazzo bianco blu ricco di incantesimi che esiliano i permanenti, togliere i nostri stessi pezzi e poi rigiocarli a campo pulito dopo la risoluzione di quest'ultima. O banalmente counterare ogni magia del nostro avversario per poi lanciarli in modo inaspettato. Una carta più che fastidiosa con la possibilità di strategie molto interessanti. Numero 9 Decimatore delle province Dimmi che costi 10 ma senza costare 10. Questa carta è l'alternativa economica, in senso monetario si intende, al ben più devastante Crater of Behemoth. Può però essere lanciato a un costo nettamente inferiore grazie alla sua abilità Emergere, che ci permette di sacrificare una creatura e di pagare la differenza con il costo dell'abilità senza pagare obbligatoriamente 10 mana. Questa carta al cast dà più 2 più 2 a tutte le nostre creature per poi entrare rapida e travolgente in una battaglia che solitamente è già decisa. Numero 8 Apice del potere Una carta dal costo più che alto ma a mio parere molto bilanciata. Ci sono centinaia di modi per lanciare le magie senza pagare l'effettivo costo di mana. Ma questa è una delle poche carte che ci premia se effettivamente riusciamo a farlo. O che almeno ci prova. Esiliamo le prime 7 carte del Grimorio e possiamo lanciarle fino a fine turno. Ma se abbiamo lanciato questa magia dalla nostra mano, aggiungiamo anche 10 mana in qualsiasi combinazione di colore. Ottimo incentivo a rampare velocemente, vero? Numero 7 Devastatore Alfa Cascata, cascata, cascata e ancora cascata. Alla risoluzione, oltre ad avere in campo un bel 10-10 a costo 10, il lancio di questa idra imponente ci permette in realtà di lanciare 5 magie in totale. Numero 6 Scolpire Memoria Non c'è trucco, non c'è inganno, il valore totale di mana di questa magia è 10 ed entrambe le sue parti non sono per nulla da buttare via. Giocandola dalla mano a costo 4 possiamo far tornare una magia o un permanente non terra in mano al suo proprietario e non avete idea di quante volte questa carta mi abbia salvato da fastidiosissime magie incounterabili. Lanciandola dal cimitero invece a costo 6 per la sua abilità Aftermath possiamo far rimescolare i cimiteri e far pescare 7 carte ai giocatori. E ormai sappiamo benissimo come questa cosa possa rivelarsi molto utile in più contesti. Numero 5 Gingitaxias augura del nucleo Se dovessimo mai stilare una top pretori e, tra parentesi, se vi interessa scrivetelo qui sotto nei commenti, a prescindere dal costo lui sarebbe sicuramente tra i primi posti. 5-4 con lampo che ci fa pescare 7 carte in sottofase finale che riduce di 7 il numero massimo di carte in mano ai nostri avversari portandolo di norma a 0. Questa creatura ha un bersaglio per le rimozioni disegnato sopra grosso come il negozio in cui andate a giocare. E sappiamo benissimo che purtroppo la rimozione arriverà di sicuro. Ma se anche solo per una volta riusciremo a pescare tante carte e ad azzerare la mano a qualcuno, avremo trovato a questa carta il value che merita. Numero 4 Impulso primordiale Create un mazzo formato da sole carte permanenti più lei, trovate qualcosa che vi faccia da tutore, trovate il modo di giocarla. Avrete così tutto il mazzo in campo. Per questa posizione c'è veramente poco da dire, questa carta è spaventosamente sbagliata e giocarla in mazzi costruiti apposta per girarle attorno ci permette di chiudere in modi epici. Numero 3 Ulamog la fame incessante Famosissimo 10-10 a costo 10 indistruttibile che fa esiliare le prime 20 carte del giocatore in difesa quando attacca. Nel caso in cui siate tra i pochi e non aver mai visto questa carta e vi siete appena spaventati a sentire le sue abilità, beh sappiate che non sono neanche per forza da considerarsi tra le migliori, dato che al suo lancio possiamo esiliare invece fino a due permanenti, abilità che ovviamente risolve anche in caso di counter al nostro mega gigalord Eldrazi. Esempio perfetto di carta ottimizzata al 100%, giocabile in più mazzi e che impatta pesantemente sulla board. Numero 2 Progenitus Incubo peggiore da trovarsi contro per ogni buon giocatore di Magic the Gathering, Questo idra leggendario dal proibitivo costo 10 doppio penta 10-10 con protezione da tutto è per certo una delle carte più difficili da risolvere in tutto il gioco. Non possiamo targettarlo, bloccarlo, fargli nulla che comprenda anche il puntarlo con un dito ed avendo come soluzione finale esclusivamente la rimozione di massa, non posso che classificarlo come la creatura a costo 10 più forte di Magic the Gathering. E sicuramente si guadagnerebbe un bel posto d'onore anche in una possibile top di creature più forti in generale. Numero 1 Onniscienza E anche oggi gli incantesimi trionfano su tutto e tutti. Dobbiamo obbligatoriamente dirlo, oggi ha vinto la carta con il testo più chiaro e semplice di tutte le altre e ci permette anche di giocarle tutte le altre. Possiamo lanciare magie dalla nostra mano senza pagare il loro costo di mana. Sì, così, siamo dinanzi alla carta da Rage Quit per eccellenza. L'unico difetto, che è più una condizione obbligatoria in realtà, è il fatto che potremmo non avere in mano nulla di impattante da lanciare oppure esaurire le carte senza risolvere troppo. Ma combinata a Peschini o ad esempio a qualcos'altro che ci fa pescare ad ogni magia lanciata, questo problema si risolverà portandoci indubbiamente alla vittoria della partita. Ed eccoci purtroppo anche oggi alla fine del video. Spero ovviamente che vi sia piaciuto, nel caso lasciateci un bel like e un commento qui sotto per supportarci e naturalmente valutate anche l'iscrizione al canale per vederne altri come questo. Come al solito vi invito a seguirci su tutti gli altri nostri social per rimanere informati su tutto quello che facciamo. Trovate un link unico qui sotto in descrizione che vi porterà a tutti i nostri contatti, compresi quelli per le donazioni e per il link affiliato di Cartrader. Entrambi i modi importantissimi per poterci supportare e che vi daranno modo, se lo vorrete, di accedere anche ai contenuti dell'archivio mistico. Un bacio dalla vostra Moxi e alla prossima!